Il pendolo balistico è un pendolo formato da un blocco di legno appeso a un filo. Veniva utilizzato dalla polizia scientifica per misurare per esempio la velocità con cui vengono sparate le pallottole da pistole e fucili. Funziona in questo modo, la pallottola si conficca nel blocco di legno, il blocco e la pallottola partono con una certa velocità v' e il pendolo si solleva di una certa quota h. O meglio ancora, invece di misurare la quota h, si misura l'angolo di inclinazione α. Dalla misura di questo angolo si ricava la velocità della pallottola. Oggi non si usa più il pendolo balistico per misurare la velocità dei proiettili, ma credo che si utilizzino metodi ottici, dispositivi laser per esempio, e così via. Però è interessante vedere la fisica alla base del funzionamento del pendolo balistico. Tutto il processo fisico si può dividere in due fasi. L'urto, in cui il proiettile si conficca nel blocco di legno, e la fase di salita, in cui il blocco con il proiettile salgono fino alla massima altezza. Sono due fasi separate una dall'altra. Cominciamo dall'urto. È un urto perfettamente inelastico perché i due oggetti rimangono attaccati e si muovono insieme dopo l'urto. E già sappiamo che negli urti perfettamente inelastici l'energia meccanica non si conserva mai. Si può dimostrare rigorosamente. Questo del resto è ovvio perché il proiettile viene frenato dal blocco di legno e subisce un fortissimo attrito che produce una grande quantità di calore. Infatti quasi tutta l'energia meccanica della pallottola si trasforma in energia termica, cioè in calore. Dopo vedremo quasi tutta che si trasforma. Tuttavia, essendo un urto, in tutti gli urti si conserva invece un'altra cosa, non l'energia meccanica ma la quantità di moto totale. Quindi la quantità di moto totale prima dell'urto è uguale alla quantità di moto totale dopo l'urto. Prima la quantità di moto c'è solo la pallottola e vale mv, più zero perché il pendolo sta fermo. Invece dopo l'urto il sistema m più m, che è dato dalla somma delle due masse, perché è il blocco di legno più la pallottola, parte con velocità v' quindi dopo l'urto ha quantità di moto m più mv'. E questa è la conservazione della quantità di moto. La quantità di moto prima portata solo dalla pallottola è uguale alla quantità di moto dopo portata dai due oggetti insieme. Dicevamo che invece l'energia meccanica non si conserva e se vogliamo calcolare il calore prodotto per attrito, dobbiamo fare la differenza tra l'energia meccanica prima dell'urto, che è maggiore, e l'energia meccanica dopo l'urto, che è minore. L'energia meccanica prima è data dall'energia cinetica della pallottola, un mezzo mv alla seconda. L'energia meccanica dopo l'urto invece è l'energia cinetica del sistema formato dai due corpi, quindi m più m, e che parte con velocità v, quindi l'energia cinetica di questo sistema. E si può dimostrare rigorosamente che dopo l'urto l'energia meccanica di questo sistema è sicuramente minore, anzi è molto minore, dell'energia meccanica che aveva la pallottola da sola prima dell'urto. La differenza tra queste due quantità, tra questa e questa, ci dà il calore prodotto. Come piccola osservazione diciamo che non c'è l'energia potenziale gravitazionale perché fissiamo al livello del pendolo nel suo punto più basso, per convenzione fissiamo arbitrariamente il livello H uguale a zero. Tutto va un po' come se la pallottola e il proiettile si muovessero su un binario orizzontale senza staccarsi da questo livello.